Oggi parliamo del mango, un frutto tropicale pieno di carotenoidi che fanno veramente bene e per chi va al mare fanno anche abbronzare. Questo è un frutto caratterizzato da una buccia spessa, dalla polpa di colore giallo-arancione, compatta, sugosa, con pochissimi se non nessun filamento e soprattutto con un aroma intenso, buonissimo, che però proviene dal picciolo, quindi odoratelo dal picciolo. Se consumato quando non è maturo, invece ha un sapore decisamente sgradevole. Il frutto maturo va conservato a temperatura ambiente per un massimo di due giorni. Se invece è acerbo, può essere conservato in un sacchetto di celofana per alimenti e lasciato lì finché non diventa morbido, maturo. Evitatelo però di metterlo in frigorifero, altrimenti si perde completamente il profumo del frutto. Mangiate di questi tempi il mango perché, come vi dicevo, è ricco di carotenoidi, vi protegge ma anche vi esalta l'abbronzatura. Ciao, mi chiamo Alessandro Zou. Sempre più spesso senti parlare del successo della Cina. Anche in Italia noi cinesi siamo tanti e facciamo un sacco di cose. Hai mai pensato di fare affari con noi cinesi? Ho avuto un'idea meravigliosa. Grazie a tutti.